Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, pagina della cronaca nera in apertura del nostro telegiornale. Vi riferiamo del gravissimo fatto di sangue che si è verificato domenica sera in pieno centro storico a Gela, ferito a colpi di pistola un 32enne pregiudicato. La polizia ha arrestato l'autore, si scava per delineare il vero motivo del tentato omicidio. Il responsabile è stato individuato grazie alle riprese delle telecamere dei negozi. Vediamo. Per le modalità di esecuzione per lo spessore criminale dei soggetti coinvolti è verosimile ritenere che quanto accaduto debba essere collocato all'interno di un disegno meno ristretto di quello che attualmente appare per l'eventuale coinvolgimento da accertare di altri soggetti e di ulteriori ambiti criminosi. La polizia di Gela è proprio su questo che sta lavorando alla cremente da domenica scorsa per chiarire in ogni minimo particolare cosa si nasconde dietro al gravissimo fatto di sangue che si è verificato in via Trieste, angolo Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri da Piazza Martiri della Libertà. Uno giovane 32enne del luogo, Ghetano Marino, con precedenti penali per associazione mafiosa e traffico di droga, è stato raggiunto da un colpo di pistola calibro 7,65 mentre stava passeggiando con la propria fidanzata. Tre i colpi sparati, uno lo hanno raggiunto all'addome. Il ragazzo è in ospedale. A fare fuoco è Salvatore Noviziano, di 25 anni, anche lui con numerosi precedenti penali. Gli investigatori lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza dei negozi della zona e lo hanno arrestato nella sua abitazione. Nessuna testimonianza, nonostante la zona, teatro del tentato omicidio, fosse piena di gente. Proprio in quel momento era in corso la festa dell'abbondanza e in quel luogo erano presenti numerosi avventori. In commissariato, alla presenza del suo avvocato, Noviziano ha ammesso di aver agito per vendicare l'offesa subita da Marino che, davanti alla gente, il giorno prima e nello stesso identico luogo della sparatoria, lo avrebbe preso a pugni e schiaffi al culmine di un diverbio. L'arma non è stata ancora rinvenuta. Il pubblico ministero di turno ha convalidato l'arresto presso il carcere di Contrada Balate. Alle indagini Lampo ha partecipato anche personale della squadra mobile di Caltanissetta. Ma, come dicevamo e come sostiene la polizia, lo scenario criminoso potrebbe essere completamente diverso. In quel momento il luogo teatro della sparatoria era pieno di gente e nessuna collaborazione è giunta agli inquirenti. Sentiamo. Dottore, è stata un indagini Lampo che nell'arco di poche ore ha assicurato la giustizia e la responsabile, l'autore della sparatoria che si è consumata in via Trieste. Il dato più preoccupante che emerge in quest'altra vicenda è che si spara in piena piazza alla presenza di numerosi eventori. E questo, come dicevamo, è preoccupante. Sì, non ha nessuna motivazione potrebbe giustificare appunto un gesto del genere. Posso solo dire come altri episodi, la chiave di lettura che abbiamo dato e che anche in questo caso l'autore ci ha confermato alla presenza del suo avvocato non risale a motivazioni apparentemente legate a business criminale o a situazioni simili, ma bensì a una assurda e folle reazione da parte dello sparatoria nei confronti del ferito per una loro lite avvenuta il giorno prima. Ribadisco, nessuna motivazione può autorizzare un essere umano a rispondere a un d'orto subito. Devono andare in polizia a fare le denunze e ci pensa la legge a sanare le varie frizioni che si possono verificare. La cosa invece brutta, lo dico con molta convinzione, è che lei dice bene, c'era molta gente, ma nessuno fa una dichiarazione per aiutare le forze dell'ordine, chiunque sia, a cercare di trovare chi attenda alla loro vita. Perché magari c'è il solito discorso, tanto non ha riguardato me personalmente. E questo è un passo molto, molto difficile che nemmeno con l'attività dell'associazione anti-racket, l'ho detto ieri, con la quale abbiamo raggiunto i risultati eccezionali dal punto di vista delle denunze per il racket, l'usura e le imposizioni, invece sotto questo punto di vista Gela purtroppo non risponde assolutamente, ce lascia molto spesso sole, anzi quasi sempre da sole. Nemmeno una telefonata anonima, nemmeno un aiuto estemporaneo per risalire ed individuare un soggetto del genere, che, ripeto, già gravato da precedente penale, ma lo abbiamo dovuto trovare, individuare e bloccare solo ed esclusivamente con le nostre forze. Ma lei crede che tutto sia riconducibile ad una vendetta oppure c'è dall'altra? Sono due soggetti inseriti nel campo criminale gelese da parecchio tempo, ma credo ciò, con la direzione della procura di Gela e la collaborazione della squadra, stiamo valutando a 360 gradi tutte le ipotesi investigative che ci siamo proposti di valutare. Posso chiedere la cura dell'ipotesi investigative? Diciamo eventuali dissidi per un traffico di stupefacenti, che soprattutto il ferito e anche il soggetto che ha sparato, sappiamo che gravitano nell'orbita del mondo degli stupefacenti. Sono stati espiantati gli organi della 32enne gelese, deceduta dopo tre giorni di agonia in ospedale a seguito di un suicidio. I familiari, compiendo un grande gesto d'amore, hanno deciso di donare i suoi organi, che daranno vita a persone che in questo momento soffrono e rischiano di morire. Il cuore andrà ad un paziente di Bologna, il fegato a Roma. I polmoni della sfortunata ragazza aiuteranno a migliorare le aspettative di vita. Due pazienti siciliani già in viaggio verso l'Ismet di Palermo. I due reni andranno rispettivamente all'Istituto Trapianti di Napoli e Milano. Le corne della 32enne saranno conservate nella banca degli organi di Palermo, in attesa di poter essere trapiantate e ridare la vista a pazienti affetti da gravi patologie agli occhi. Ieri sera un altro suicidio si è registrato a Gela a mettere in atto l'insano gesto. È stata una 25enne studentessa universitaria. La ragazza si è uccisa nella sua villetta di Contrada del Susino, impiccandosi. È stata intitolata la memoria di Emanuele Giuseppe Alabbiso, scomparse a seguito di un incidente aereo il 24 novembre scorso, la nuova ambulanza della pubblica assistenza Procivis di Gela. Il mezzo di soccorso entrerà in supporto alla MAIC-10, già presente ed operativa nel territorio locale per le emergenze sanitarie. All'intitolazione dell'ambulanza era presente anche il Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. La memoria di questi nostri cari amici che purtroppo l'anno passato ci hanno lasciato, certo angoscia e rattrista i cuori soprattutto dei familiari, dei parenti, ma chiaramente anche di tutti noi amici. Tuttavia penso che elevare la memoria di persone, di amici, con la fruizione di questo dono che viene fatto alla città, penso che sia veramente uno dei gesti più nobili e più esemplari che possono esserci. Durante la cerimonia di presentazione erano presenti i congiunti di Emanuele e Giuseppe Labbiso. Un ricordo che rimane a tutti noi, noi che siamo i familiari, i diretti familiari, a maggior ragione difficile da dimenticare, impossibile, ci apporteremo per tutti i giorni. Poi siamo qua nella speranza di continuare quello che ha fatto mio fratello con la Procivisi ed essere nel volontariato. Spero prossimo futuro tramite Luca e tutti quanti i ragazzi. Io sono a loro disposizione. Il responsabile della Procivisi di Gela, Luca Cattuti. L'importanza di questo nuovo mezzo nel territorio è quello di offrire un servizio maggiore, soprattutto quello di aiutare quello che è il servizio che viene reso nella cittadinanza grazie alla MAIC 10. Questo mezzo, che è la MAIC 12, è un altro mezzo medicalizzato che supporterà sia il servizio di eccedenza, soprattutto i trasferimenti tra nosocomi. È un mezzo importante perché l'importanza di più mezzi di soccorso nel territorio gelese dal punto di vista sanitario servono. Quindi questo mezzo va a arricchire l'efficienza e va a supportare quello che è il servizio di eccedenza 118 nel territorio locale. Auto in fiamme la scorsa notte intorno alle 2.30 in via Massimo d'Azeglio a Gela. I ignoti hanno applicato il fuoco ad una Mercedes classe A appartenente ad un operaio di 34 anni. La macchina è andata distrutta. Indagano i carabinieri. Giovedì 28 aprile prossimo alle 10 nei locali della direzione sanitaria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela sarà presente la quinta commissione sanità Lars, presieduta da Pippo Di Giacomo, per partecipare ad un incontro sulle problematiche che interessano l'offerta sanitaria del comprensorio di Gela. Lo comunica il deputato regionale del PD, il gelese Giuseppe Arancio. Alle 15 dello stesso giorno la commissione si sposterà presse i locali della direzione generale dell'Asp di Caltanissetta. Adesso occupiamoci del progetto promosso da Ship Lab che mira ad incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela. Una competizione di idee che mira ad incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela. Si tratta dell'evento Nice to PCU previsto per sabato 30 aprile prossimo nella prestigiosa sede di Palazzo Mattina in Corso Vittorio Emanuele 411. Finora, dalla data di presentazione, sono numerose le idee di imprese innovative pervenute. La competition, promossa da Ship Lab prima nel suo genere ad essere organizzata nel territorio locale, si inserisce in un contesto storico-economico che oggi ha urgente ed assoluta necessità di riscoprire nuove attitudini. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori al fine di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti che riguardano la tecnologia, la smart city, il turismo sociale, l'agroalimentare e l'arte. Ci è piaciuto il fatto che Gela si è emossa, Gela ha trovato uno spirito imprenditoriale, ma ha idee anche da Catania, Tormina, Siracusa, Grigente, insomma tutta la Sicilia ha avuto un buon riscontro questo contest. Siamo molto contenti di questo. 23 idee di cui una dozzina sono state già preselezionate, ne presenteremo una decina su tutti i campi che Next2Pitch ha proposto, quindi l'agroalimentare, turismo, sociale, tecnologia. Tutte le idee avranno almeno una start-up che presenterà il proprio pitch. L'obiettivo finale è quello appunto di creare una partnership tra le imprese presente che hanno aderito in gran numero e faranno parte di una rete per l'innovazione, appunto una partnership tra queste imprese e le start-up, partnership che può essere economica, di scambio di know-how, di elaborazione di prototipi, di prodotti, quindi si può creare un percorso per sviluppare nuove imprese grazie alle imprese già stabilite nel territorio. Siterrà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presse locali del Museo archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra, Piume, Baciatemi la guancia ardente. Porteranno il saluto della città natale di Salvatore Damaggio, le autorità cittadine e i presidenti delle associazioni Rotary Club, Fidapa, Lions Club del Golfo, Chivanis, Proloco Gela, Archeoclub e Lega Navale. Piume, Baciatemi la guancia ardente, è un romanzo storico e biografico, liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio, tenente, bersagliere, mitragliere, gelese, protagonista indiscusso della Grande Guerra. Il libro ha ottenuto il logo ufficiale del centenario della Prima Guerra Mondiale, concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche il patrocinio morale dell'Associazione Nazionale del Fante. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Costruiamo il futuro in una città che cambia, dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale. È il titolo del convegno promosso dalla Diocesi di Piazza Armerina tramite l'osservatorio pastorale di Gela, fortemente voluto dal vescovo Rosario Gisana che si atterrà venerdì 29 aprile alle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'osservatorio pastorale cittadino, composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi, è preseduto dal vicario foraneo Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale. Le nuove tecnologie internet e il digitale non rappresentano la fine del giornalismo ma una nuova possibilità. Questa è l'opinione di Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, ospite in città in occasione del premio al giornalismo e alla cultura Nuccio Grosso di cui è stato presidente di giuria, che si è intrattenuto con i giornalisti nissegni e non solo, per raccontare attraverso la sua esperienza l'evoluzione del mondo della comunicazione e dell'informazione. Dalla televisione al web nell'era della comunicazione 3.0 è stato infatti il tema dell'incontro di formazione promosso dalla Sostampa Nissena con l'ordine dei giornalisti siciliani. Oggi la commessa è quella di fare un unico sistema di informazione, un sistema che praticamente serve al pubblico per far arrivare le informazioni in qualsiasi momento, dovunque si trovi chi ne ha bisogno. Quindi un sistema che non ha più barriere tra la televisione, internet e gli strumenti in mobilità, cioè gli smartphone, i device in mobilità di qualsiasi tipo, questo oggi è possibile perché la tecnologia digitale rende possibile di far scorrere le immagini da una parte all'altra. Si tratta di avere un'organizzazione, si tratta di avere un progetto e di creare dei sistemi di informazione in maniera che la gente si riconosca in un marchio, in un percorso, in una scelta e questa è la cosa che spetta ai giornalisti. Tra l'altro lei sta scommettendo su un'informazione di flusso che va dalla radio alla televisione a internet, un nuovo progetto dunque che partirà a breve. È importante mescolare questi sistemi, non tanto perché è solo tecnologia che si mescola ma perché tutti i professionisti che lavorano in questi mezzi, ognuno ha una sua professionalità leggermente differente che può arricchire quella degli altri. Quindi il problema alla fine è un linguaggio unico che si può avere con il pubblico, con gli ascoltatori, con i lettori, con quelli che ti guardano in televisione, i telespettatori e questo linguaggio si deve creare, è un linguaggio nuovo che si deve ancora creare. Un linguaggio nuovo che però torna sempre all'antico, è appunto al nostro mestiere, la parola chiave. Sì, il nostro mestiere è fatto di cose molto semplici, per essere comprensibili bisogna essere semplici. Poi qui ognuno fa le sue differenze a che pubblico si vuole rivolgere. Se si vuole rivolgere ad un pubblico di massa, ad un pubblico totale, a un bacino totale di popolazione per informare, deve essere molto semplice, essenziale. Con le nostre telecamere siamo stati in Contrada Pampinella, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Vediamo. Contrada Pampinella, nei pressi della Stadale 115 c'è la Vittoria, pochi passi dall'ingresso della città. Benvenuti nella discarica a cielo aperto per eccellenza. Si trova di tutto, ma proprio di tutto, dagli elettrodomestici in disuso, alle cassette per la frutta, cartoni, bottiglie in plastica ed in vetro, materassi, mobili, vasche da bagno ed anche abbigliamento, cumuli di spazzatura in ogni dove, veri episodi di inciviltà e degrado ambientale. È stato un cittadino a segnalarci la presenza di quanto le immagini vi raccontano. Come trazio, trazio per andare verso Pampinella, che questa zona non la conosco, e viste una guerra che c'è, un macello, bene la vergogna, bene la vergogna, demonizia che è chiettata. Ma non lo so, questo paese di cielo funziona, non funziona, e le spazzature la paghiamo, carissima. Ma allora quando ci vienono a controllare che c'è il suo camion di spazzatura, che non veniscono mai? Ma qui poi si trova di tutto. Di tutto, ma più avanti ancora, se giriamo, c'è il sterro, c'è la fine del mondo, perché i camionisti, uno, l'altro, tutti quelli che sono, con questo sterro, arrivano, scarregano la notte e sono vanno, basta, è finito qua il discorso. Non c'è controllo a nessuna parte, nessuna parte. C'è un macello, scendono qua a commissione, è bene a dire che c'è due camion per trovare tutta questa munizia, se c'è basta. È vergognoso, è vergognoso, se uno passa da qua, può farsi una camionata, va a trovare qualche amico, è vergognoso. Io arrivai sotto il ponte e maneggerai, maneggerai, perché ci vengo, insomma, qua, una volta ci metti per i camion, ci sono amici, carini, insomma, io la mattina passo qua così, faccio una camionata e basta. Ancora un successo per gli atleti della Bike Team Gela, che hanno portato a casa tre podi nell'ambito della seconda edizione della Marathon Castello di Pietrarossa. gara ciclistica di mountain bike inserita nel circuito della Federazione Ciclistica Italiana, che si è svolta a Caltanissetta. I gelesi Francesco Di Giacomo, Giuseppe Abela, Domenico Polare e Peppe Cafanno, gareggiato assieme ad altri 300 partecipanti al Gran Fondo 50 chilometri, ottenendo due primi posti, un terzo e un quarto posto. È prevista per venerdì 6 maggio dalle 9.30 la Mini Olimpia di Atletica Leggera. L'iniziativa che si terrà alle Mura Timoleontè è promossa dall'associazione Green Sport, presieduta da Giuseppe Veletti. Si tratta della settima edizione. Siamo all'informazione cinematografica. È un paese quasi perfetto con Fabio Volo, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo Attenti a quei due con Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso e Lori Ardore. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie per averci seguito fin qui e aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.